Musica Usare un veicolo per saltare attraverso il cerchio di fuoco a Borgo Bislacco Quindi dovremmo dirigere qui a Borgo Bislacco Appunto prendere un'auto, quindi prendere una qualsiasi auto E dovremmo saltare da questa rampa nel cerchio di fuoco Ovviamente io sono qui in laboratorio della battaglia Quindi io non lo posso visualizzare il cerchio di fuoco Però sarà molto molto semplice Basta semplicemente qui prendere la rincorsa con l'auto Prendere la rampa e dopo la rampa vi sarà il cerchio di fuoco Quindi fate così e lo prendete Davvero sfida semplicissima Quindi spero che questo video sia stato aiuto per capire Quale come trovo sia una semplicissima sfida Se così vi ricordo di essere un bel like Iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche Così se siamo aggiornati su questi miei video E live con lo schieno vado a taglia Infine condividete il suo video Tutti gli amici e mi fai trancato loro Quale come trovo sia una semplicissima sfida Della settimana 5 di Fortet Noi ci vediamo per questo video Alla prossima live